Stabilire dei limiti significa proteggere la propria sfera privata, sia fisica che mentale. Questo vale sia al lavoro che nella vita privata e anche per la sfera emotiva. Stabilire limiti è fondamentale per il proprio benessere e gioca un ruolo chiave nei rapporti con gli altri. Sentirsi infelici, insicuri o inascoltati è un chiaro segnale che i limiti non vengono rispettati, mantenuti o stabiliti.